Telespettatori di Video33, uno cordiale saluto, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione che sarà in massima parte dedicato al lutto che ha colpito il mondo della politica targato Alto Adige su Tirol. Una data che rimarrà sicuramente impressa nella storia della nostra realtà, 25 maggio 2010. Alle ore 8.30 del mattino il cuore di Silvius Maniago, colui che è considerato il grande vecchio della politica alto-attesina, ha smesso di battere. Si è spento l'uomo simbolo della politica sottirolese. Si è spento il padre dell'autonomia. Si è spento l'uomo di Castelfirmiano e dello Sfontrient. Si è spento il fondatore della SVP perché Maniago era la SVP. Si è spento, senza ombra di dubbio, anche un grande uomo che ha dedicato tutta la sua vita non alla politica ma alla sua gente. Un uomo che è stato accanto ed ha accudito con amore la compagna della sua vita, sua moglie. Se oggi, come oggi, l'Alto Adige su Tirol è una florida realtà economica dove convivono pacificamente diverse etnie, dove il rispetto e la tutela delle minoranze sono garantite, lo si deve certamente a lui. All'uomo che è stato capace di dire no alla lotta fra gruppi e sì invece al dialogo, pur non dimenticando l'importanza di valorizzare le tradizioni e la storia del suo popolo. Silvius Maniago, su tirolese convinto, certo, è al tempo stesso però anche Silvius Maniago, già allora europeista. Nato il 5 febbraio 1914 a Merano, Maniago studiò giurisprudenza a Bologna, dove si laureò nel 1940. Per protesta contro la politica del fascismo in Alto Adige optò per la Germania. Nel gennaio del 43 venne chiamato alle armi nella Wehrmacht. Nel dicembre dello stesso anno rimase gravemente ferito sul fronte russo, gli fu amputata una gamba. Iniziò la sua carriera politica nel 1947 nella neonata Suttiroler Volkspartei. Nel 1957, dieci anni dopo, divenne segretario politico del partito di raccolta dei suttirolesi ed entrò nella storia nel novembre dello stesso anno per il suo discorso durante il raduno di protesta di 35.000 suttirolesi a Castelfirmiano, quando pronunciò il Los Fontrient, chiedendo con forza e tenacia quell'autonomia provinciale che oggi è una realtà ed è un bene di tutta la popolazione altoatesina. Nel 1960, Magnago, venne eletto presidente della giunta provinciale, guidò contemporaneamente provincia e partito nelle delicate fasi delle trattative per lo statuto di autonomia. Dopo 28 anni, nel 1989, passò lo scettro di governatore dell'Alto Adige a Luis Duormaldera. Tre anni dopo, il grande vecchio della politica lasciò anche la guida del partito di via Brennero, passato nelle mani dell'avvocato Roland Rizzi. Magnago è poi rimasto presidente onorario della Volkspartei. Nel nostro archivio abbiamo trovato una miriade di immagini, premiazioni e riconoscimenti conferiti a quest'uomo che non è stato solo ed esclusivamente il padre dell'autonomia, ma è stato un esempio autentico e genuino di come va interpretato il ruolo di politico, di come si fa la politica.